Ragazzi, finalmente nato! Il primo kart camp per bambini di età compresa dagli 8 ai 15 anni. Dal 2 luglio, presso il kartodromo Top Fuel Racing di Vignate, in provincia di Milano, tutti gli interessati potranno vivere una settimana di avviamento alla guida sportiva. Ogni giorno ci saranno ospiti illustri, famosi piloti, proiezione di materiale audiovisivo con oggetto racing, animazione e momenti di gioco e di svaglia. Ci sarà inoltre la polizia locale a tenere corsi di educazione stradale. Una settimana entusiasmante ed adrenalinica attende vostro figlio. A fine corso ci sarà per tutti l'attestato di partecipazione ed il gran premio finale al quale i genitori sono invitati ad assistere. Per informazioni www.topfuelracing.it oppure potete telefonare al numero 02 40 70 73 01. Drive the top, ride the power!